Dunque, per difendersi dalla pandemia da Covid-19 è importante, lo ripetiamo ancora una volta, restare a casa, ma proprio per questo occorre una maggiore attenzione per un'alimentazione sana che quantomeno ci aiuti a rafforzare il sistema immunitario. Allora, su questa base la Fondazione Walter Longo ha stilato delle linee guida nutrizionali. Ne parliamo in collegamento con Anto Luca Matarazzo, direttore generale della Fondazione Longo Ollus, e con Romina Cervigni, responsabile scientifico della stessa fondazione. Benvenuti. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Matarazzo, parto da lei e le chiedo di spiegarci che cosa prevedono queste linee guida nutrizionali che sono state preparate appositamente perché anche l'alimentazione possa contribuire a combattere il virus. Sì, più che contribuire a combattere il virus abbiamo ritenuto necessario e doveroso stilare un documento, un vademè, uno strumento di agile lettura che potesse in qualche modo aiutare le persone a sostenere adeguatamente il sistema immunitario e nutrirsi con consapevolezza. L'abbiamo fatto sulla base di dati scientifici, di norme autorevoli, innanzitutto individuando quelle che fossero delle scelte igieniche, delle norme igieniche necessarie, e successivamente per cercare di promuovere una consapevolezza del noto legame che c'è fra il corretto esercizio fisico e la salute rispetto alle necessità appunto di svolgere adeguatamente un esercizio fisico quotidiano, così come anche rispetto alla necessità di mantenere adeguatamente il peso e il peso forma, soprattutto in questi giorni di sedentarietà. Dall'altro canto informare in merito ai nutrienti necessari e principali di cui il sistema immunitario ha bisogno per potersi far trovare pronto e attivo. Da un'analisi dei dati dell'Istituto Superiore della Sanità è emerso in maniera abbastanza evidente quello che era il rapporto che c'è tra i deceduti e i positivi a coronavirus, i fattori di rischio maggiori sono l'età avanzata, si pensi che su un campione di 16.500 persone circa, l'età media è di 78 anni, sono le persone con patologie pregresse, si parla di 2-3-4 patologie spesso legate appunto all'avanzare dell'età e quindi questo determina la necessità di intervenire rispetto a una fragilità del sistema per farsi trovare pronti proprio in situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo purtroppo in questi giorni. Senta Cervigni, che esempi si possono fare concreti, lo chiedo a Cervigni, di alimentazione corretta? Cioè cosa possiamo fare per rafforzare le nostre difese immunitarie contro questo nemico, il Covid? Sicuramente possiamo condurre un'alimentazione che sia il più varia possibile perché se noi abbiamo, introduciamo alimenti diversi, vegetali diversi, cereali diversi e così via, assicuriamo al nostro organismo via via vitamine e minerali diversi e quindi più completi. Per fare degli esempi pratici il mio consiglio è quello di consumare il pesce due o tre volte alla settimana, specialmente pesci di piccole dimensioni come ad esempio acciughe, alici, sgombri ma anche il salmone. Dopodiché introdurre anche molti legumi che vanno a sostituire un secondo, quindi via libera a ceci, piselli, fagioli, fave e così via e poi il consumo di cereali integrali a rotazione e anche la frutta secca a guscio come per esempio le noci, le mandorle e così via. Ovviamente ad ogni pasto cerchiamo di condire i nostri alimenti con dell'ottimo e di qualità olio extravergine di oliva. Le verdure devono essere sempre presenti ad ogni pasto ma assicuriamoci che siano di stagione, possibilmente di origine biologica e anche qui a rotazione, anche per quanto riguarda il metodo di cottura, quindi alterniamo verdure crude a verdure cotte. In questo modo possiamo assicurare al nostro organismo le vitamine, soprattutto le vitamine principali e minerali principali utili proprio per il nostro sistema immunitario, per far trovare pronto il nostro corpo per combattere le infezioni, anche infezioni virali come quella da Covid-19. Le vitamine principali sono la vitamina C, la vitamina D e poi tra gli alimenti principali troviamo lo zinco, importantissimo per la maturazione dei linfociti T che sono le nostre cellule immunitarie. Grazie per questi consigli. Senta Matarazzo, per tutto il mese di aprile la vostra fondazione offre un servizio di visite nutrizionali online, gratuite. Ci dicevi velocemente come funzionano? Sì, innanzitutto il programma è un programma un po' più completo, è un vero programma di longevità per tutti, messo insieme dalla fondazione per garantire attraverso una cruzione online di una serie di attività, proprio per intervenire e sensibilizzare le persone rispetto a quello che sono i fattori di rischio che sono in qualche modo acceleratori dell'invecchiamento, perché è l'unico modo per garantire un generale stato di salute adeguato. E abbiamo previsto assistenze nutrizionali e visite online per tutte le persone che volessero migliorare appunto il proprio regime alimentare. Sì, basta andare sul sito online, lì ci sono tutte le indicazioni. Sul sito fondazionevalperlongo.org, ci sono una serie di iniziative attività. E lì si possono trovare tutte queste informazioni. Grazie, grazie mille per essere stati con noi. Esatto, grazie a voi. Grazie per le informazioni. Grazie a voi. Diamo la linea all'informazione, RENIS24. Tra poco. Buon mattina. Buon mattina.